Visto che è anche il periodo giusto, Francesco Lomonaco, esperto di GPS, possiamo introdurti così, bentornato e buon anno. Bentornato Francesco, un amante della montagna e anche della tecnologia. Quindi, visto che stai iniziando a nevicare, vero Francesco, per gli amanti appunto della neve, ci sono buone notizie in vista, cerchiamo di dare anche qualche consiglio pratico, vero, su come godersi la neve in sicurezza. Purtroppo, ne sentiamo di tutti i colori, sulla neve, tra valanghe, di recente un ragazzo si è salvato solo perché aveva un sistema di rintracciabilità. Allora, raccontaci un po' tu, anche di te che sei tornato da poco da un'esperienza agonistica ad Obiaco, vero? Allora? Sì, un'esperienza agonistica nello staff, nell'organizzazione. Però sei un appassionato di sport. Non come atleta, però sì, è un'esperienza molto bella, nel senso che tu sai che io da sempre mi pratico gli sport invernali, in particolare lo sci di fondo, che mi piace e mi appassiona molto. E quindi, diciamo, cercando come sempre di unire un po' il piacere con poi il lavoro, in realtà, io da diverso tempo collaboro con organizzazioni che organizzano eventi legati appunto allo sci di fondo. In particolare, appunto, a Obiaco in questi giorni, fra Obiaco e Cortina, si è svolta la Coppa del Mondo di sci di fondo. Però, quindi, una grandissima manifestazione. Per aiutarti il portafoglio, ma per aiutarti un pochino con il microfono che, con la camicia, logicamente, scivola un pochino. Scivola, scivola, come sulla neve, no? Allora, dicevi Coppa del Mondo di sci di fondo a Obiaco. Sì, Coppa del Mondo di sci di fondo, tour de ski, molto bello, sì, un evento interessante, che si svolge su diverse località, parte dall'Austria, poi arriva a Dobbiaco, termina in Val di Fiemme, e coinvolge atleti di tutte le nazionalità, in particolare Svezia e Norvegia, che, come sai, sono un po' il paradiso di questo sport. E quindi, diciamo, un'organizzazione, devo dire, veramente interessante, bella. Poi avevo lasciato delle foto alla regia che possono usare sottofondo. Svezia ce le manda in onda, così ci godiamo. E' un po' il paradiso di questo sport, però non sono i primi in classifica, giusto? Correggimi, so che anche i nostri azzurri sono forti. Infatti, infatti, sono tratti di difesi molto bene, molto bene. Sì, 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 no, assolutamente, sì, i nostri stanno muovendo molto bene, in particolare Fia Polizia, Carabinieri, che poi erano questi atleti, le Fiamme Oro, più o meno veramente. Qui vediamo le immagini, Francesco, allora commenta. Sì, 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 qui, ecco, qui per esempio era a Cortina, la partenza dell'ultima tappa, dell'ultima giornata, che si svolgeva appunto nel tracciato della vecchia ferrovia, che parte da, tra l'altro, parte da Calazzo, poi arriva a Cortina, Cortina-Dobbiaco, qui era il tratto da Cortina-Dobbiaco. Ecco, tu eri a Cortina proprio nei giorni del grande controllo, mega della finanza, vero? Sì, 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 sì. Che clima c'era? Io ricordo che domani, Damiano, sarà una sorpresa qui a questa domanda, proprio su sta tematica. Ero sicuro che questa domanda me l'avresti posta. Ma non potevo non fartela, mi è venuta vedendo le foto. Si è parlato solo di questo. Beh, cosa vuoi che ti dica? Clima un po' incandescente nella neve, bella immagine. Proprio sono arrivati lì il giorno 30, per cui la gente era lì con i cotechini e le serate. Sereni, tranquilli e tacchete. E' arrivato il cambio della finanza. Comunque, sai, il discorso di Cortina, io, come sai, da tanti anni ci vado, la amo, la frequento. Sai, Cortina è una località di montagna che è nota soprattutto molto per la mondanità, per gli eventi, per le feste, per quello che arriva lì col macchinone, eccetera. E quindi, chiaramente, se devono fare un'operazione di questo tipo, non la vanno a fare a Folgaria, ma vanno a farla lì. Questo non significa, però capisco anche da un certo, quindi un'operazione sicuramente, e mi pare che abbia portato anche dei risultati, perché hanno trovato degli evasori totali, non molti, ma ho letto, ho sentito cose di questo tipo. Ci sono dappertutto. Si crea un po' quell'etichetta, un po', capisco un po', il presidente degli albergatori, piuttosto che il sindaco, che si sente un attimino etichettato Andrea Franceschi, della località degli evasori, esattamente, che l'hanno in molti intervistato. Ha sicuramente difeso la sua perla delle dolomite. Quindi cosa vuoi fare? Cioè, sono quelle situazioni... Vabbè, è che tu l'avevi vissuto, volevo sentire la tua testimonianza, ma torniamo. È vero che dal 2012 si dice, vado a Cortina, ma in Panda. Ma infatti stanno vendendo spesso i macchini. Panda 4x4. Perché già siamo un po' su. Puzza di SUV. Direi che si aprirà questo scenario. Torniamo alle nostre immagini, ai tuoi racconti, ai tuoi suggerimenti, appunto, per vivere lo sport in sicurezza, sulla neve. Ma sì, guarda, appunto, come ti dicevo, appunto, questo evento molto bello, molto interessante, seguito, tra l'altro, perché come tu, anche tu, pratichi sport, non so che ti piace, la bici, eccetera, il cavallo. Soprattutto lo sport da tavola, dopo cerco di bruciare. Anche la bici. Sì, vado anche in bici, non adesso che fa freddo. Bici d'estate, cavallo, tennis. In bici? Ma quella professionale o quella graziella? No, no, professionale, no, la graziella. Invece la graziella rosa. Eh no, sono la bici... Beh, la graziella è un pezzo, però... Professo, è un pezzo storico. L'ho vinta, l'unica cosa che ho vinto a una festa dell'unità anni fa da bambino... La graziella. La graziella rosa. Beh, per tua figlia. Non me la può cambiare. E che ne sapevo quando ero bambino che avrei avuto una figlia? Ah, no, pensavo qualche anno fa. No, no, quando ero bambino, ho detto, ma rosa, mi perdoni, ma... Non è proprio... Quella c'è. Va bene, a graziella donata, non si guarda in bocca. Prego, Francesco, scusa, ogni tanto divaghiamo. No, 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 ma certo, ti dicevo appunto, si parlava appunto di questi eventi sportivi e come dicevamo appunto sempre più appassionati, un po' perché vedono queste cose, un po' perché la prevenzione, comunque lo star bene, eccetera, se tu vedi ci sono sempre più persone che si avvicinano a questi sport, diciamo, aerobici. Sì. Come la bicicletta tua, piuttosto che la corsa, tu la domenica mattina vedi son marce in giro un po' dappertutto, la gente pratica la corsa. Corri per Padova è stato un esempio vincente. Ne parliamo di mercoledì. Corri per Padova che è stato tra l'altro un qualcosa che è cresciuto in maniera notevole, esponenziale, quindi sempre più appassionati. Sì, 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 è una bella iniziativa. Adesso c'è la Corri per Brescia che ha preso appunto spunto da Padova. È stata una bella iniziativa. Ma per la neve, Francesco, tornando agli strumenti anche utilizzabili per una maggior sicurezza, quanti incidenti vediamo sugli sci? Guarda, tornandosi al mondo della neve, avevo introdotto questo discorso degli sport aerobici perché sono due cose, diciamo, praticare questi sport all'aperto e la sicurezza che vanno abbastanza parallelamente. Perché? Perché, diciamo, ci sono degli strumenti, delle tecnologie oggi accessibili a tutti e dal costo effettivamente estremamente abbordabile, molto ridotto e molto comode. Sono degli strumenti che possono esserti di grande utilità, se utilizzati bene, in situazioni di emergenza e anche per, diciamo, fare attività sportive in sicurezza. Ecco, mettiamolo così. Ecco, questi prodotti sono prodotti da polso, peraltro, molto semplici, tipo questo che io ho qui, che in realtà ha tutte le sembianze di un orologio, però incorpora due funzioni estremamente importanti. Ecco, questo ha, vediamo se riesco ad accendere anche la retroilluminazione, così si vede un attimino meglio. Questo, diciamo, ha tutte le sembianze di un normalissimo orologio da polso, ma integra due funzioni estremamente interessanti. Un GPS. Ecco, lo mostriamo più in dettaglio. Un GPS, esatto, vediamo se riesco a farlo vedere un po' meglio. Questo integra all'interno un GPS e un cardiofrequenziale. Quindi spieghiamo per, magari, quelli non appassionatissimi di tecnologia, il sistema GPS, cosa comporta, cos'è? Certo, allora, il sistema GPS è un sistema di posizionamento globale. È un sistema che ti permette, allora, nelle applicazioni automobilistiche, di condurti, come ben sappiamo, a una certa destinazione. Quindi è il navigatore. È il navigatore, il GPS è il navigatore, il navigatore che, praticamente, aggancia una rete satellitare che c'è intorno alla Terra di 24 satelliti, determina la sua posizione, quindi determina dove tu ti trovi, e nel campo automobilistico è impiegato per guidarti lungo le strade. Nel settore sportivo, invece, ha delle funzioni diverse, anche se funziona nella stessa maniera, e queste funzioni sono intanto registrare la sicurezza, innanzitutto, la sicurezza. Infatti, tutti questi dispositivi hanno, questo tra l'altro è touchscreen, quindi come un iPhone, una cosa estremamente semplice, e tu nel tuo menu hai sempre presente un tastino dove mi trovo. Tu cliccando col dito sopra dove mi trovo, questo ti dà le coordinate esatte del punto in cui tu sei, che tu puoi comunicare in caso di intervento, cosa estremamente importante. Quindi ti trovano con una precisione metrica. Quindi, anziché tu spiegare, stai facendo un'escursione in montagna, ti trovi in un posto in cui non riesci a capire, perdi l'orientamento, tu comunichi con i soccorsi, gli dai le coordinate, e tu stai certo che quelle ti trovano con precisione metrica. Cioè, un salvavita. Questi oggettini qui, naturalmente, saranno anche magari in dotazione per la Parigi Dakar, mi viene subito da pensare. tutti dovrebbero averli. O li sono seguiti con altri dispositivi. Per la Parigi Dakar hanno dei dispositivi che ti danno la posizione real time, cioè tu non devi fare nulla. Mentre questo, tu leggi la posizione e devi comunicarla poi attraverso un cellulare. Invece li sei tramite il monitor della base. Li sei tracciato, c'è un tracking. Un tracking, per cui dalla base loro vedono sempre e costantemente la posizione in cui tu sei. Quindi quello è un tracciatore. È fondamentale, perché davvero, notizie recenti, dei giovani escursionisti piuttosto che sciatori fuori pista travolti dalle valanghe sono stati salvati perché avevano questi sistemi. Sono riusciti a dare segnalazione, a farsi localizzare e si sono salvati la vita. Certo, questo è estremamente qui. Il poter dare la posizione, lui è l'esempio della Parigi Dakar è un qualcosa di ancora più evoluto di questo, perché questo presuppone che tu in qualche maniera sia cosciente, cioè se tu devi poter comunicare la tua posizione leggendola su questo schermo. Questi dispositivi che diceva lui di tracciamento invece sono dei dispositivi che funzionano indipendentemente dal tuo intervento e quelli danno costantemente la tua posizione. Addirittura, questi dispositivi se tu permani fermo in un certo punto per un intervallo di tempo prefissato, lungo, automaticamente i soccorsi intervengono. E lì è successo con questo ragazzo travolto dalla valanga, era incosciente chiaramente ma è stato rintracciato. Sono dispositivi che automaticamente, questo invece è un qualcosa di più semplice e che però ti dà la tua posizione precisa e tu la puoi comunicare. Ecco, anche per le persone non più giovanissime che magari ci stanno guardando, è semplice una volta così aver avuto un'infarinatura sulla tecnologia però è di semplice utilizzo ovvero la localizzazione tu metti il polsantino dove sono non c'è moltissimo da fare. Assolutamente, assolutamente semplice peccato che sì con la telecamera non lo potete inquadrare però proprio c'è una è come un menu di un cellulare. noi potremmo basta che tu lo rivolgi verso la telecamera se io lo giro così e loro riescono a zoomare vediamo se riesco se zooma un pochettino ancora se riesci lo schermo è diviso in quattro spicchi sullo spicchio in basso a destra alla mia destra c'è una bussolina e c'è scritto dove mi trovo lì si clicca e tu col dito vai sopra dove mi trovo adesso io non riesco da qui comunque sta venendo fuori e ti dà le coordinate esatte ecco si vede benissimo dove sono il primo se io riesco a cliccare sopra dove sono tv7 alle 7 se esce via francesco si pionero adesso vedi posizione corrente ora vedi dei trattini perché siamo chiusi dentro un capannone di metallo per cui lui non aggancia i sette non sei all'aperto se tu fossi all'aperto al posto di quei trattini ti dà le coordinate in posizione nord tanto studiato per stare all'aperto non è giusto sono nati per fare attività all'aperto quindi anche gli appassionati ripeto non ragazzini escursionisti si chiamano fare le passeggiate in montagna quanti ce ne sono i marsi nella natura sarebbe bene che utilizzassero chiaramente strumenti salvavita mi viene da chiamarli diciamo che sono strumenti che sicuramente facilitano enormemente l'intervento in caso di necessità quindi questo Francesco prima ho visto tra le immagini da buona sarda di origine non mi ha sfuggita la notizia i quattro mori sull'Everest ho visto la bandiera dei quattro mori della Sardegna ecco grazie alla regia inquadriamo l'immagine l'avventuroso master di una cardiologa sarda tu c'entri qualcosa in questa notizia giusto intervento direi questo sì carino ci stavo un po' di campanilismo certo questa era un po' la seconda parte dell'intervento è quello un po' si parlava di sportivi professionisti e di amatori e ti stavo appunto introducendo questo argomento che trovo estremamente attuale quindi questi articoli hanno oltre a darti la posizione hanno anche una funzione cardiofrequenziale cioè hanno una fascia che tu ti metti molto semplice una fascia elastica e che rileva la tua attività cardiaca durante la frequenza cardiaca perdoni ecco vediamo a lei no vediamo un po' di immagini di medici ti rileva la frequenza cardiaca durante la tua attività all'aperto la frequenza cardiaca è poi il dato che permette di misurare la tua forma fisica alla fine sì quindi c'è un controllo proprio della salute diciamo questo anzi direi qualcosa quindi la frequenza cardiaca è il dato di base questi dispositivi la registrano diciamo che quello che è interessante per poter anzi quello che per fare un'attività sportiva in sicurezza l'ideale sarebbe diciamo muoversi all'interno di una fascia di attività cardiaca quindi non superando per esempio sono dati individuali che sono legati poi al età diamo dei parametri generici parametri per esempio non so 140 battiti di massima e 90 di minima se tu ti muovi tra 90 e 140 ti muovi nella cosiddetta soglia aerobica che è quella che ti fa bene per fare l'attività fisica quindi ma sono parametri del soggetto in azione sportiva diciamo sciando ad esempio ci sono questi parametri o dal soggetto da fermo no bisogna essere sarò più preciso diciamo sono parametri questi che sono legati innanzitutto al sesso quindi donne e uomo hanno delle soglie aerobiche diverse sono legati all'età sono legati al peso ad alcuni dati che tu quando acquisti questi dispositivi immetti il tuo profilo ho capito quindi lui tu registri questi dati all'interno di questo dispositivo immettendo questi dati lui ti elabora un software all'interno e ti dice quella che è la tua soglia ottimale nella quale allenarti quella che è la soglia chiamiamola sia di sicurezza e anche diciamo la soglia nella quale tu consumi grassi quindi hai un'attività sportiva anche adatta diciamo se vuoi mantenerti in forma personalizzata al soggetto personalizzata esatto al soggetto però c'è da dire qualcosa noi siamo andati appunto tu facevi vedere quelle immagini della dottoressa Sezu che è partner mia in questo progetto che stiamo portando avanti ma è questa la dottoressa no è lei Patrizia Sezu come si chiama? Tiziana 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 Sezu complimenti forza Sardegna vedi che bella mora la tua terra vedi come si muove no la terra dei miei padri come dico ma la sento molto mia peraltro trappiantata cortina lei da diversi anni perché lei è cardiologa all'interno del Codivilla ah che bello e se non che lei è specialista mi piacerebbe averla qui e conoscerla sì sì sarebbe stato bello purtroppo che ci siamo sentiti all'ultimo momento per quelle doveva scendere e non era semplice per lei scendere però diciamo che lei è appunto cardiologa specializzata in cardiologia dello sport io ho avuto modo di conoscerla qualche tempo fa ed è nata e tra l'altro appassionata di tecnologia e anche un personaggio peraltro estremamente come hai visto appunto in quell'immagine di prima in quell'articolo di giornale lei è stata la piramide del CNR alla base dell'Everest per fare sul campo base dell'Everest per fare dei test degli esperimenti sul diciamo la risposta dell'organismo a quote elevate alle solle situazioni mi ricorda Francesco mi ricorda un amico un volto noto di TV7 alle 7 che è il cardiologo Mario Trivellato io non lo savo ma sicuramente la conoscerà ma quell'oggetto poi trasmette comunica il tuo battito del cuore quindi le frequenze cardiache con un centro medico come lcg trastelefonico perché noi abbiamo questo medico ti rivellato che ha un nostro caro lo conoscerà anche Francesco ha un macchinario mica da ridere ma guarda diciamo si sta introducendo l'argomento forte un po' di questo incontro diciamo sì che allora noi abbiamo ci siamo resi conto che questi dispositivi sono molto interessanti però pochi li utilizzano in tutte le loro funzioni e li utilizzano diciamo in maniera corretta corretta anche proprio per questi aspetti della prevenzione e quindi abbiamo messo appunto un portale internet una piattaforma internet attraverso la quale la dottoressa Setsu e altri partner medici che stiamo coinvolgendo nell'iniziativa hanno la possibilità di diciamo entrare tu praticamente quando torni dalla tua attività sportiva questo registra tutto quello che hai fatto e lo trasferisce automaticamente a questo sito web a questa database c'è già il portale si si c'è il portale ci sono dell'immagine ecco lo stiamo già vedendo ah ecco già questo si chiama GPS ma ti sta comunicando il tuo cellulare si scusa non volevo che infattilisse il microfono per questo lo no è che dopo sei emozionato cosa c'è un anzamento no è che dopo un po' che tu non lo utilizzi si arrabbia dopo un po' che non lo utilizzi no 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 va in economia di batteria più semplicemente per cui ti dà questo segnale che si sta disattivando e dà questo segnale tra l'altro anche con una vibrazione come hai sentito per questo dà un segnale acustico e vibra per cui tu per esempio molto interessante quando stai correndo per esempio e hai l'ipod e stai ascoltando la musica se tu stai sforando la tua frequenza cardiaca prefissata ti vibra nel polso per segnalarti che tu stai esagerando con lo sforzo beh è uno strumento di ultima generazione veramente utilissimo sia per gli atleti che anche per gli appassionati solo no di sport l'idea è quello che stai cercando di fare è di introdurlo anche a fasce di amatori e quindi non che già comunque li utilizzano perché tu vai la domenica a corona e molti hanno al polso questi dispositivi magari in versioni precedenti non questo è che una volta c'erano quelli enormi che sembravano quasi degli oggetti patacconi adesso uno lo confonde con un normale orologio sportivo quindi a volte magari non li riconosci infatti è un modello proprio più raffinato anche un po' più più portabili che puoi tenerti su ecco però tornando al discorso diciamo prima quindi cosa è possibile fare quindi diciamo che il medico può diciamo seguire attraverso questo sito e può andare a entrare nell'archivio delle tue attività sportive ecco mettiamola così e quindi può vedere anzi perdonami devo partire da un passo precedente mi sono un po' perso diciamo c'è un programma che abbiamo studiato un protocollo questo programma inizia da una visita medica sportiva durante questa visita medica sportiva ti viene praticato un test che si chiama VO2max che è il test cosiddetto a massimo consumo di ossigeno cioè è un test che tu fai su viene chiamato cicloergometro praticamente è una cicletta se vuoi e mentre tu fai questo ti viene rilevato l'elettrocardiogramma la pressione è quello che vediamo nella foto esattamente è quello e l'ossigeno che tu consumi per fare una determinata una sessione di attività esattamente da tutti questi parametri il medico estrapola le tue soglie allenanti ideali che sono estremamente personalizzate su di te e non sono generiche come quelle che diciamo prima che tu immetti sulla base dell'età del sesso e di questi aspetti sono tarate sul soggetto sono proprio individuali calcolati per te per la tua forma fisica questi parametri poi che vengono estrapolati da quest'esame noi li imputiamo all'interno di questo dispositivo che a questo punto lavora su delle frequenze cardiache calcolate su quest'esame per cui estremamente individuali e fatte appositamente per te ecco detto questo tu cominci il tuo programma di allenamento che per esempio dura un anno durante questo programma di allenamento tu fai le tue uscite quattro uscite la settimana o quelle che ti vengono proposte e quelle che tu poi riesci a fare e diciamo il medico ha la possibilità di entrare in questo database e di vedere diciamo come tu svolgi le tue attività e quindi vedere i tuoi progressi nel corso del tempo e vedere anche questo è estremamente importante se stai facendo degli errori di allenamento quindi se per esempio tu ti alleni a soglie troppo elevate sì cosa che spesso succede allora c'è l'acido lattico ci sono alterazioni della frequenza cardiaca cosa che può succedere perché magari che sono nella marcia è la parte di agosto e di agosto di agosto